bravi 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 bravissimi bravi vi sta bene vi sta bene bravi 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 no no devo dire molto bello non voglio neanche disfasare guarda veramente il nostro scudetto è durato sei mesi da maggio a novembre sei mesi è durato fate cagare il cazzo fate quando giocate così veramente vi taglierei le gambe a 1 a 1 a 1 vi tagliere le gambe porca puttana troia non c'ho voglia di sfasare non c'ho voglia di sfasare con la cremonese con la cremonese non siete riusciti a battere la cremonese la squadra più scarsa del campionato non siete riusciti a battere in pezzi di merda pezzi di merda che vi ammazzerei come cazzo faccio non bestemmiare io nei video come faccio come faccio non bestemmiare una partita veramente di uno schifo ma proprio di uno schifo quelli non hanno neanche provato a tirare in porta neanche provato a tirare in porta contro la cremonese contro la cremonese non siete riusciti a vincere mamma mia mamma mia io non so che cazzo dire non voglio neanche parlare della partita perché che cazzo devi dire della partita cosa devi dire abbiamo consegnato lo scudetto a napoli a novembre l'otto di novembre l'otto di novembre ci siamo già scuggiti lo scudetto dal petto ma fatevi schifo sputatevi in faccia veramente sputatevi in mano e spalmatevi la faccia cagatevi in bocca cagatevi merde che non siete altro merde che non siete con la cremonese come si fa non vincere con la cremonese con la cremonese la squadra più scarsa del campionato ma che cazzo sta succedendo questa ma che cazzo c'avete o ma cosa cazzo c'avete e adesso non ci non ce la posso prendere né con l'arbitro né con gli altri perché sono in sono una squadra schifosa noi stasera peggio 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 perca puttana o come io non so se trattenermi dalle bestemmie o fare un video solo di bestemmia guarda mamma mia io veramente vi piglierei a pugna uno a uno quando giocate così con sta cazzo di sufficienza di merda tor non so che cazzo dire guarda sono sono proprio alibito degli indegni veramente indegni una partita la vincete al di culo un'altra c'era col torino giocate di merda e perdete ma stasera veramente se c'era anche la sampdoria perdavamo con la sampdoria fate schifare il cazzo quando giocate così veramente uno non non può guardarvi non può guardarvi quando giocate così con sta cazzo di sufficienza molli proprio a cazzo proprio scazzati ma ma come cazzo la vincete la seconda stella come la vinciamo la seconda stella così ma svegliatevi ma svegliatevi dai avete cagato il cazzo adesso e che cazzo non se la può prendere neanche con la cremonese con voi che non siete riusciti a battere la cremonese figli di puttana indegni di merda guarda sei proprio degli indegni di merda sto fumando un pacchetto di sigarette mi sto fumando in tre minuti porca cosa voglio vedere chi cazzo la usa dire il campionato è lungo il campionato è finito oggi l'8 di novembre è finito il campionato è finito out out fine fine datevi già sto scudetto a sei cazzo di napoletani va dio santo che se vince lo scudetto il napoli è una sconfitta per tutta l'italia per lo schifo che fanno quelle persone non me ne fotte un cazzo guarda bannatevi pure non mi interessa un cazzo se vince lo scudetto il napoli è una sconfitta per il paese per il paese è una sconfitta ma guarda te io c'è veramente bisogna perdere lo scudetto così io perché giochiamo di merda noi ma ti rendi conto ma ti rendi conto non è che dici fanno la partita alla vita questi non hanno fatto un cazzo cioè proprio sono stati dietro per cercare di non prenderle e tu non sei riuscito a fare un gol un cazzo di gol ma neanche un tiro in porta con la cremonese con la cremonese cazzo ma fanno bene che ci sfotte guarda una volta che si suicidano quelle merda indegne di interisti bastardi con gli juventini con tutti facciamo vincere lo scudetto al napoli a più 8 il napoli a più 8 a novembre ma di cosa stiamo parlando ma se lo meritano 10 vittorie di filo in campionato ma che vincessero sto cazzo di scudetto e mi devo arrendere pure io io che sono la persona forse che li odia più al mondo ma non è che se lo meritano sono gli altri che veramente sono delle squadre schifose schifose raga schifose ma che cazzo è sto schifo ma cos'è ma io non lo so rebici per toglierlo non so quando gioca così rebici c'è ti fa inca ti fa incazzare sì ma ma tutti merda siete stati dal primo all'ulto tutti merda il meno peggio messias che è l'unico forse che si prova ogni tanto a saltare l'uomo a fare qualcosa fate fate vomitare mi fate vomitare quando fate così guarda meglio chiudo questo video perché veramente non è serata non è serata poi rischio di andare lungo di tirare qualche bestemmia guarda ciao a tutti